L'assistente segreto ci ha preparato una nuova arena dove sfidarci che è tipo molto 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 più grande dell'altra e quest'oggi non è l'unica novità È molto più insidiosa perché è più difficile muoversi, c'è molto più stretta È più stretta e ha una forma molto particolare, ci sono due torri più alte e più grandi, sarà davvero un bel casino Ma non è l'unica novità perché oltre alla nuova mappa abbiamo anche delle nuove armi perché abbiamo cambiato le armi che utilizzeremo Sì stavo dando una sbirciatina, ho visto Si spara in modo molto diverso, non c'è più il mirino quando non si mira quindi sarei obbligata a mirare con tutte le armi Sarà una sfida molto 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 diversa e molto particolare Ovviamente utilizziamo il solito modo, quindi noi partiamo con un'arma, ogni volta che si fa una kill si passa all'arma successiva E vince chi utilizza tutte le armi che sarebbe ta 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 e infine il coltello Poi sono tantissime stavolta Sono davvero davvero tante Sono tantissime Ok Feri io direi che possiamo partire Come sempre il link in descrizione si sente segreto se volete seguirlo e andare a ringraziarlo Ricordatevi è americano però traduce comunque in italiano le cose con Google Translate Quindi vi capisce a priori però andate a ringraziarlo perché stiamo a passare una bomba Allora AKM Io mi inizio a prendere i miei bellissimi caricatori Io ci sono, ho già l'arma caricata Steph ti conviene morti Me la ricarico Allora guardate Ma le torri non le avevo viste ancora da dentro Che belle Lo so Che belle Lo so Fammi sbirciare Allora devo dire che in mezzo ai meloni Ok O a muria come lo vogliamo chiamare La tua tessurina blu si vede parecchio Steph Adesso ho visto che sei sulla torre Ah si? Io non la vedo Ma ti ho preso? No Troppo lontano? Non lo so Non ti vedo però Oh ma Dov'è? Ah nella torre anche lei Ora mi hai preso Ovviamente Steph te l'ho anche detto Che bella sta torre Vabbè scendo dai Sei un po' una vergogna Steph Era un po' triste vederti da lì Non sei che non mi vedevi Per favore gioco fammi scendere La massacriamo La massacriamo Ho metto lei i primi colpi della sfida Ora ci vendichiamo Oh mamma mia È molto un casino Te l'ho detto Te l'ho detto che è molto insidioso È molto un casino È molto stretto Quindi è molto difficile muoversi Ma che cavolo sei? Poi a parte che è un labirinto Ogni tanto mi ritrovo in vicoli ciechi Non so se l'ha fatto anche a te Ma ogni tanto mi ritrovo in strade Sì perché ha messo di nascondigli Quelli sono tutti i nascondigli che puoi utilizzare Poi quest'arma è gigante Steph Non vedo una ceppa di fronte a me Ma hai mirato? Sì Io una volta che ho mirato è andato tutto storto Vabbè Devo andare così E cercare di uscire Steph Allora È anche difficile arrivare all'altra base Sì c'è un pochino di più Di tempo Quindi È un po' più bilanciato Scusa Steph La volevo cambiare Non mi piace Vabbè ma sono stato lento Altrimenti È davvero difficile È davvero difficile Difficile da utilizzare È davvero difficile Sei stato cattivo Le hai messe complicatissime Vattene Steph E va bene Sei felice di rifare le stesse cose Che arma è questa? Ma che è un cecchino? No È una sorta di mitra con mirino Ma perché hai messo queste armi? Sembra un po' problematico Molto Vabbè tu sei già la terza Quindi che vuoi? Una carabina Mi dispiace Dove sei? Non ti ho visto Lo so Mi sto nascondendo Il tuo testone blu Dov'è il tuo testone? È la mia tattica Se salto sempre non mi prendi Se salto sempre non mi prendi Ti trovo Eccolo 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 Spero morissi con quel colpo Ok Ricarico No Steph è impossibile Mirago sta roba Lo so È totalmente impossibile Infatti per mia fortuna Eri ferma Togliti Stai fermo Steph No ti devo uccidere con questa Non posso continuare Te lo giuro Non posso Perché quella dopo è peggio Ma l'hai visto come zoom Ma non capisci dove sta zoomando Io spero senza mirare Basta Coraggiata eh Scusa Steph Non mi piace però Che ci uccidiamo in base Sta cosa non mi piace Beh è lecito però No è lecito Però c'è Quest'arma era davvero impossibile Come zoomava Cioè davvero Mi sa che ho preso i colpi sbagliati Per questa Dai le ho azzeccati tutti Scusa 15rd Punto 30 Carabin Magazine Ma qual è Così lo so Ah no forse le ho messi sbagliati io Aspetta 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 Ma dai Dai ti aspetto Non ti posso uccidere solo in base Muoviti Io ce li ho sbagliati Quali Scusami Boh questa carabina Facciamo che riuso Quella di prima Ok Che tanto sono comunque due carabine Ok Va bene E allora per due round Mi devo ottenere questa qui no Sì esatto Esatto Quindi abbiamo la stessa arma Però dura due round Io sono al secondo round E tu al primo Sì dai va bene va bene Ti lascio andare in giro Perché trovi tu altri Mi ti aspetto Vai 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 ci sono What? What? Sa dove sono? Dove fare? Ma ti perdo subito Come fai a sapere dove sono? Scusami Come hai fatto a scoprirlo cara? Seguendoti È ovvio Steph Non salire nelle torri eh Ok Ti ho visto Mi hai visto? Ho visto il testone da qualche parte Ho detto il blu spicca bene Questa volta non ho mirato Io ti odio No non miro più neanche io Cioè ogni volta che miri Poi ti va tutta strana la mira Sì 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 È un po' strano Allora Sono molto più realistiche Ste armi È quello Sono molto più realistiche Le altre si adattavano bene a Minecraft Queste sembrano più di qualche gioco Di sparatutto Un po' più realistico Esatto Più complicate Questa la giochiamo Mi devo ottenere Due round sta roba Questa la gioco alla ninja Sto per buttarmi da qualche parte Perché è davvero troppo Lo so È tosta quell'arma È davvero tosta Dov'è? È rimasta anche a sparare? Cosa? È rimasta anche a sparare No vabbè L'ho fatto io per far scena Questa era troppo forte Ah pensavo fosse la mia inceppata Carina il mini Uzi eh E ho Ci sta No è una tristezza sto round Teoricamente non devi tornare in base Fere Tanto è la stessa arma Ah è vero È vero Hai ragione Cavolo È l'abitudine Oh la odio Non la voglio usare ancora Beh un solo round Ti è andata bene Comunque io sono a pistola in questo momento Quindi Teoricamente Non ti sia meglio sta roba Dov'è 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 Porca miseria Ma perché Perché ho finito i colpi Quanto durano i colpi accidenti Muoviti a ricaricare Ok Mi davano magazine a me Finalmente Ma hai sbagliato i nuovi proiettili Stef non me lo dire No E si era flippato Si era inceppato Ok Due round di sta roba Dove cavolo sono Non riesco neanche a tornare in base Cioè è troppo complicata la strada Fede non rompere Sei tu che non ti sai rientrare Allora quindi devo saltare questa Cos'è la mitraglia Uh Sembra bella questa Ah lei ha la mini Uzi Giusto Sembra bella Sembra davvero bella Dov'è Stef Ah questa è bella Leggera Ti muovi bene Sono belle Bella Bella Questa mi piace Questa mi piace Questa la voglio tenere due round Stef Non puoi Guarda come zitto Che stai scogitando Sei in qualche torre Vero Dai c'è Ti ho preso Sì Non può essere meglio La tua di que Fa schifo sta pistola Mi serve una strategia Mi serve una strategia Questo è per aver provato A prendermi alle spalle Stef Era la mia unica speranza Ah no quindi ho ancora quest'arma Eh ma adesso Stef non riesco a capire Dove devo tornare a casa mia Dov'è la mia casa È la mia base No vabbè fa troppo schifo Sparo di nuovo Vai via Ti sento Stef Non ci provare Vai via Perché non ce la fa neanche da vicino Perché no amo Ah ho tutti i caricatori vuoti Ok È che poi una desert eagle Sì fa schifo però Bella Non fa danno Io ho finito tutti i caricatori Cioè io ti ho colpito tre volte Non ho nulla Esatto Cosa dovrei fare Eh Non lo so Comunque si lì Finisce subito Te l'ho detto Ma mi stai mancando Quando io fermo Stef è terribile Anche tu mi stavi mancando Con me ferma Cioè è proprio brutta Sta pistola Andiamo all'arma dopo va Vai all'arma dopo Aspetta È troppo scandalosa Oh no Fede Ho rotto tutto A meno che te Stef Non fa danno Cioè tecnicamente La desert eagle è forte Basta Questa è brutta Te l'avevo detto Ho cercato di avvisarti Non mi ha ascoltato Ho anche provato se non riesco a ucciderti Con te fermo Più vergognosa di così Non si può Dico io Chiedo perdono per la prossima Perché? È brutta Eh io chiedo perdono Sì No dai Stef La devo scegliere io Ma io sto giocando senza armatura Da quanto tempo? Me l'hai spaccata Cavolo Ok Comunque Stef Secondo me È arrivato il momento Di spiegare cos'è nella fronte Ah beh in effetti Ve l'ho dimenticato E che cos'ho io nelle braccia È un video che esce nel secondo canale Su Stef e Ferri In questi giorni Ovviamente sono finti Sono finti Ovviamente cioè Però lo vedrete poi Nel secondo canale Uno anche qua Si vede un pochino Quello che succede Ferri mai visto che arma abbiamo? La pistola? È una revolver Ah lo so È un mondo triste questo Stef È un mondo molto triste Ho spaccato i vetri Con le pistole Assurdo Dove sei? Dove sei? Mi hai rotto le scatole Tu mi hai rotto le scatole Pi 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 Fere? Tepe è bruttissima anche questa Dai poi ci mette cinque anni e mezzo A ricaricare Dove sei? Dove sei maledetta? Dove sei? Ma se mi muovo costantemente Che poi si vede tutto annebbiato Quando tieni queste armi Condomini Ma dove sei? Scusami Cosa vuoi? Non ti vedo È un horror questo cara Dove sei? Ti sento Io scendo giù Ma mi stai sparando Perché sono nelle scale Oh mio Dio Devo ricaricare Sto ricaricando No È lentissimo Dai non ti ho ammazzato Era un caricatore intero Ma dai Steph Cioè perché scegli queste armi? Ma che ho fatto di male Nella mia vita Per combattere con te Con queste armi Ma sono caduta giù dalla mappa Ho vinto Non hai vinto Non mi hai ucciso tu Torna qui Steph è bruttissima Dove sei a spara scusami? È indovina Sei in qualche torre? In quella di prima Tanto mi banchi Cioè posso anche Tranquillamente camminare Questo buco andrebbe tappato Comunque Giusto per dir Che hai combinato Cioè spiegami Che cosa hai combinato Ho messo la revolver Sperando fosse un fucile decente Io adesso la levo E ti uccido a pugni Steph Sì forse ci metti meno No no ti uccido a pugni Forse effettivamente Ci metti meno Cioè guarda 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 Cioè mi lasciate in vita Con un cuore C'è trappare Jennifer Mi dispiace Porca miseria No Steph Non posso resistere così Non posso resistere Ti ho ammazzato E non scopo No non mi interessa Steph Non mi interessa È odiosa Cioè ti ho colpito 540 40 Mila volte E non sei morto Servono Sei colpi Su sei Perché rimarrò in questo round Per sempre Servono sei colpi su sei Io sono rimasto fermo Solo a spararti Senza più muovermi Né altro Perché è l'unico modo Sto triste Hai scelte tu le armi Io non accetto Quello che tu hai scelto E me la leva Cioè fa un colpo solo È fortissimo È ovvio Un cecchino Mi piace un botto Ma anche questo che io ho Ora è un cecchino Eh sì Fede È l'arma a cui ero io Beh dai Hai speranze Contro quello che io ho in mano In questo momento Che hai? Un M16 Che poi non è un M16 Tipo un M4 Mi sa Sniperato il movimento L'hai sentito Steph No L'hai sentito Non puoi dirlo Maledetta Puoi anche uccidermi Non me ne frega nulla Sto talmente ridendo È stata bellissima Stacchino Smetti là Ti vedo nascosto lì Gietro come gli infami Uh Che rinculo ha sta arma? È troppo È troppo Cosa? Perché non magazine? Perché mi devi dire Fisso non magazine? Sono strane da Da coso Da ricaricare queste armi Mi sa che finché Finisci il caricatore Non puoi ricaricarla Ah Ok 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 Fallito Fallito Ho un bel fucile a pompa adesso Perché dai proiettili Capisco No 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 Devo essere velocissimo Un bel fucile a pompa Quindi devo trovarti vicino Perché se non ti trovo vicino È un problema Guarda che ovviamente Ce l'ho anche io Caricalo Ma perché sei così lento? Ok Ma ce devo mirare anche con sto No io non miro con questo No non fa Vabbè Aspetta com'è Ah ok no Dov'è la niente Io ti ho anche visto Ma appunto ho perso È facile perdersi In sto labirinto Oh Vicolo cieco Quindi è vicino Il maledetto Uuuuh Dai come hai fatto A non morire Non lo so È rimorto tutta la vita Però È rimorto tutta la vita Che male che ti ho fatto Ok L'altro è di nuovo Un fucile a pompa Quindi cambia poco A parte che ho risbagliato i colpi Oh ma che Dorici Gauche Eh sì effettivamente ho sbagliato io Posso sparare Ora si ok Quanti te l'ho dovuto Eh mi sa che dobbiamo riutilizzare la stessa arma Perché hai sbagliato i nuovi colpi Sì vabbè È un casino Rimango con questa Steph Ok Oggi dovete capirlo Steph Non è un bravo Tu Devo muovermi Ti devo ammazzare Prima che prendi l'arma Bellissimo Bellissimo No vattene Quindi cosa c'è Questa roba Che è sta roba Che è sta roba Non lo so cos'è Tu li metti Ce l'hai solo tu Corri A me non vale aspettare in balda Corri Steph Corri Steph Ma che è Un Aspetta Steph C'è una ricarica Di 30 secondi Aspetta non è ancora finito eh No un altro cecchino Perché Perché La mia vita è così Allora Sto prendendo vantaggio di altezza Ce la posso fare Anche se sta torre ormai è tutta bucata Hai tirato una smoke bomb Due Quindi sei lì Sei lì Ma dove li tirate fuori prima di tutto Steph Le rubate Perché io non ce li avevo le smoke bomb Ascolta io sai che faccio Ah ah Non miro Cosa vuol dire Bigliacca Così Pazienza Perché si apre dopo un botto Sto cecchino E muori No Devo ricaricare Ci mette 30 secondi Ah Steph 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 Quanto ti sto odiando Tu neanche ne hai idea Guarda Sto ancora ricaricando Ancora Ancora Dalla torre Ah se ti avvicini Ti uccido col coltello E ho vinto Non devo panicare È lentissimo sto coltello No Maledetto Corri 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 Maledetto Devo solo prendere il coltello Sfida finale Maledetto Ok Ha due attacchi il coltello Sinistro e destro Oh bigliacca Bigliacca Tu sei un bigliacca Come funziona Steph Come funziona È più forte il destro Nel sinistro Aiuto Vieni qua Non scappare Vieni qua Cavolo È difficilissimo Quanta vita hai Scusami Caro Steph Guarda che Mi dai tipo un colpo Ogni due ore Perché colpisce storto Eh ho notato Che colpisce storto È un po' Una Mi sta facendo Mere il nervoso Steph Mi sta facendo Mere il nervoso Ma anche i coltelli Devono essere complicati Cavolo di armi Lo so che si basta Ti sto colpendo un botto Ci sono Porca miseria No basta Che schifo Basta È terribile Ma cosa vuol dire Che se io ti ho coltello Ti devo dare 500 coltellate Steph Basta Basta Sono troppo realistiche Torniamo alle altre armi Che erano migliori Secondo me E erano più divertenti Queste ti fanno venire Nervoso Sono troppo realistiche Troppo Cioè che senso Anche il coltello Sì Sì Sono d'accordo Sono d'accordo Bella la mappa Ma le armi non mi sono piaciute Va bene Ma le armi non mi sono piaciute Ma le armi non mi sono piaciute